ciao a tutti vediamo questa ricetta veloce veloce ho comprato questa trippa come vedete già pulita però io per una maggior sicurezza la risciacquo con acqua e aceto e poi la farò bollire per pochi minuti eccola qua l'ho messa poi a scolare quando bolle l'acqua la metto dentro ho preparato gli ingredienti gli odori e questa la menta profumatissima la menta piperita poi la tiro fuori la metto a scolare nel frattempo faccio rosolare aglio cipolla peperoncino un pochino e poi ci verso la trippa eccola qua ho preparato il vino bianco e lo va e lo verso lo verso sulla trippa poco più di mezzo bicchiere persa poco vino bianco buono questo è il nostro facciamo evaporare bene il vino aggiungo anche la menta così prende già un po di profumo intanto ho preparato il pomodoro questo è il nostro pomodoro di casa l'ho tritato questi erano pelati però io l'ho tritato è quasi una passata diciamo mettiamo altra menta un pochino di sale poco poco perché poi assaggio e se serve metto altro sale ecco qua e facciamo cuocere non molto perché la trippa è già cotta è il tempo di far cuocere il pomodoro eccola pronta buonissima c'è un profumino molto molto invitante bene amici vi ringrazio della visione se vi piace questo piatto naturalmente rifatelo molto semplice come avete visto da fare io vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti